Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video. Oggi non ci sarà la solita video recensione, bensì un video di sponsorizzazione di un titolo distribuito in home video dalla Warner Bros Italia, la quale mi ha mandato questo prodotto attraverso il loro ufficio stampa e per questo ringrazio entrambi. Ora, prima di passare al video vero e proprio, come sempre, sigla! Bene, il film di cui ho deciso di parlarvi quest'oggi che sponsorizzerò per il mese di maggio per la Warner Bros Italia è il film live action, o meglio, realizzato in tecnica mista, di Tom e Jerry. E partiamo subito con questa sponsorizzazione di questo film, come vi dicevo, realizzato mediante la tecnica mista, ovvero quando si va a unire la parte animata, dove vediamo in versione appunto animata Tom e Jerry, e la parte di live action. La pellicola, come avrete capito benissimo, ha come protagonisti la famosissima coppia di Tom e Jerry, personaggi creati al tempo da William Hanna e Joseph Barbera, che sicuramente hanno insegnato molta della mia infanzia e anche, penso, della vostra, di una vastità di bambini e ragazzi che sono cresciuti comunque con i loro cartoni animati. Il film in questione è diretto da Team Story e ci racconta di una delle rivalità più amate della storia, che si riaccende quando Jerry, il topolino, si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del matrimonio del secolo, costringendo la disperata organizzatrice dell'evento ad assumere Tom e il gatto per sbarazzarsi del piccolo Jerry. Il problema è che la battaglia tra gatto e topo, come al solito, minaccia di distruggere la carriera dell'organizzatrice, il matrimonio e forse anche l'hotel stesso. Ma ben presto sorge un problema ancora più grande e questo costringe Tom e Jerry a qualcosa di impensabile, lavorare assieme per salvare la situazione. Il cast umano del film comprende nomi del calibro di Chloe Grace Mortez, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney e Ken Jeong. Questa splendida edizione on video, che potete trovare sia in DVD come la copia che arrivata a me, ma anche in Blu-ray, contiene tra i suoi contenuti speciali una divertentissima gag reel, ma soprattutto scansionando all'interno il codice QR che trovate all'interno della confezione, potete scoprire una fantastica clip con protagonista Paolo Bonolis, che ha partecipato al film Tom e Jerry, che vi ricordo è disponibile in on video sia in DVD sia in Blu-ray, e vi lascio attualmente il link in descrizione, dal 6 maggio 2021. Ecco quindi il film che vi consiglio e che ci tengo a sponsorizzare per questo mese per la Warner Bros Italia. Ringrazio sia loro sia il loro ufficio stampa, con cui spero di collaborare ancora, e vi lascio, come già detto, il link sotto in descrizione se volete passare all'acquista. Da questo posso concludere ricordandovi che se il video è piaciuto potete lasciare un like e condividere sui vostri vari social. Vi ricordo che il titolo che ho sponsorizzato quest'oggi è disponibile dal 6 maggio 2021 su tutti gli store digitali. Inoltre personalmente non mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. Vi potete trovare il link qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su dei nuovi video. E noi ci vediamo alla prossima recensione del video sponsor. Ciao! Ciao!